Grazie 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 Quanti cavalli è un metro? Questo non lo so ma... Questo non lo sappiamo... E' stato 20 cavalli? No, 10... Questi sono i prosciutti di... Siena Salumificio a Sesano Non bastano... Guardi le bevi da due... Eccolo no? Masterchef, buoni! Chi è? A direzione diretta... Il capo... La crosticina quella... Era la cotichella quella che cercavamo... Questo è amore però devo dire... Certo... Lasciargli la cotichella è amore... Santo non lo mangia...